Una delegazione di sindaci di città europee appartenenti a EuroCities, il maggior network di città di medie e grandi dimensioni, di cui è presidente il sindaco di Firenze Dario Nardella, si è ricata ieri a Kiev con l'obiettivo di firmare un accordo politico per la ricostruzione delle città ucraine. Un viaggio voluto da Nardella almeno dalla grande manifestazione a sostegno dell'Ucraina lo scorso marzo in Piazza Santa Croce e ribadita nei due incontri con sindaci ucraini avvenuti successivamente a Firenze. La visita, comunicata dal sindaco solo una volta avvenuta, era preparata ad almeno due mesi in attesa del momento giusto. Nardella a Kiev, città gemellata con Firenze dal 67, quando la capitale ucraina inviò aiuti a seguito dell'alluvione, ha incontrato il presidente ucraino Zelensky, è poi stato anche a Buccia, Irpin e Borodianca. L'accordo, voluto da EuroCities e sottoscritto dal congresso delle autorità locali e regionali ucraine alla presenza di Zelensky, delinea i piani per incrociare le esigenze di ricostruzione in Ucraina con le capacità di altre città europee. Presenti, oltre a Nardella, anche i sindaci di Atene, Helsinki, Lione, Marsiglia, Oslo, Riga e Tirana. Stiamo pensando ad aiutare a costruire una scuola. Non so ancora se a Kiev o nei dintorni come Buccia o Irpin, che sono stati distrutti dalla guerra, ha fatto sapere Nardella, a proposito del ruolo specifico di Firenze. O meglio, per il momento l'idea è di regalare il progetto della scuola. C'è già una disponibilità di massima di due archistar come Fuxas e Casamonti che Nardella incontrerà nei prossimi giorni, per poi lanciare una raccolta fondi con l'obiettivo di raccogliere tra i 2 e i 3 milioni di euro. Non verranno sottratte risorse al bilancio comunale, spiega il sindaco.